ciao a tutti bentornati benvenuti sul canale youtube di easy arpa io sono paolo de montis l'autore di easy arp la tua scuola di armonica blues online sul sito www.easyarp.it questo è il canale youtube di easy arp se non sei già iscritto ti invito a farlo armonica dietonica prima seconda o terza posizione beh innanzitutto cosa sono le posizioni ve ne ho parlato in un precedente video comunque in estrema sintesi suonare in posizioni diverse vuol dire suonare in tonalità diverse la vostra prima armonica sarà un'armonica in tonalità di do e imparerete a suonare sulla tonalità dell'armonica in prima posizione dopodichè imparerete a suonare anche in seconda posizione in tonalità di sol in terza posizione in tonalità di re minore ma come funziona questa questa questione delle posizioni in estrema sintesi allora il concetto chiave è che ogni posizione oltre che essere riferita a una particolare tonalità è riferita anche a una scala musicale o comunque a un genere musicale quindi tutto ciò che ha sapore tra virgolette folk quindi se ti piace l'armonica suonata da bob dylan per intenderci e tanti come lui probabilmente il tuo approccio sarà sulla prima posizione perché se la maggior parte dei brani insomma suonati da dylan sono suonati in prima posizione quindi se ti piace un brano di dylan la prima cosa e vuoi imparare a suonare il riff di armonica il temino insomma quello che fa più o meno quello che fa dylan su quel su quel brano la prima cosa che ti devi domandare è in che tonalità è il brano perché se il brano è in tonalità di do allora va benissimo la tua armonica in tonalità di do cosa andrai dove andrai a cercare le note molto probabilmente conoscendo un po lo stile di dylan andrei a cercare le note nell'ottava centrale dell'armonica nei quattro fori centrali dove hai la scala completa ok quindi dal quarto al settimo foro quindi se il brano in tonalità di do ok poi dylan a questo modo di suonare a doppie note diciamo un po sporco che però rende bene nel genere che chiaramente lo caratterizza ok le stesse note chiaramente tu imparai suonare in modo singolo e pulito dopodiché per imitare il suo suono chiaramente cercherai di capire cosa fa cosa fa se lui sta suonando in tonalità di do si mette il suo reggio armonica un'armonica in tonalità di do e va insomma a ottenere le sue melodie in modo molto semplice insomma vai nell'ottava centrale bene o male trovi quello che sta suonando ogni tanto un po un po più su ogni tanto un po più giù ma tendenzialmente lì se il brano invece di cui stai cercando di imitare il suono di dylan è in tonalità di sol bene non cercare complicazioni cioè molto probabilmente dylan sta utilizzando sempre la sua prima posizione e quindi cambia armonica mette l'armonica in tonalità di sol nel reggio armonica ecco adesso ecco la avevo spostata non ce l'avevo vicina quindi cambia armonica sposta l'armonica togliere l'armonica in do mette l'armonica in solo questo approccio tipico un po sporco voi imparate a suonare le note singole imparate le note singole pulite e poi chiaramente riuscirete senza problemi a ottenere questi effetti ok se invece sta suonando un brano in tonalità di la cambia armonica armonica in la eccetera eccetera ok quindi prima posizione ingresso diretto nel folgo ma comunque nella musica popolare in generale musica folkloristica perché gran parte delle delle musiche appunto folkloristiche sono suonate in prima posizione ok quindi prima posizione approccio diretto al folk al folklore alla musica popolare va da sé che se tu vuoi suonare in più tonalità di avere più tonalità di armonica bene seconda posizione bene la seconda posizione è quella che ti dà immediato accesso al territorio del blues il blues non si suona chiaramente soltanto in seconda posizione così come neanche il folk si suona soltanto in prima posizione ma giusto per dare dei riferimenti pronti all'uso e anche efficaci quindi se ti piace il blues molto probabilmente tu dovrai imparare a suonare in seconda posizione chiaramente anche a fare il bending sulle note aspirate sotto e soffiate sopra ma in particolare il bending delle note aspirate nella parte bassa dell'armonica seconda posizione beh allora non stiamo più suonando sulla tonalità dell'armonica quindi se io in armonica in tonalità di do io non suonerò un blues in do voglio suonare un blues nella tonalità della della seconda posizione e dov'è questa tonalità si trova cinque note sopra o una quinta giusta adesso per farla semplice partendo dalla tonalità dell'armonica contate fino alla quinta nota partendo dalla tonalità dell'armonica quindi armonica in do do re mi fa sol suonerete in tonalità di sol e cosa fate beh non fate più quello che fate che facevate in prima posizione ok andate a cercare un altro tipo di riferimento fondamentalmente utilizzate molto giusto per stringere utilizzate molto le note aspirate nei primi sei fori e sentite che subito il suono cambia ok giusto due riferimenti semplici e pronti all'uso quindi suonare avvicinarsi al blues vuol dire inizialmente imparare a suonare in seconda posizione in un'altra tonalità quindi la relazione tra la tonalità dell'armonica e la tonalità del blues quindi del brano con cui andrete a suonare la vostra armonica occhio che il vostro chitarrista suona suonate tutte e due nella stessa tonalità ma lui ha una chitarra e suona in me e tu che armonica devi prendere per suonare un blues in me questa domanda che mette sempre in crisi allora se io parto dalla tonalità dell'armonica voglio sapere in che tonalità suonerò in seconda posizione salgo di 5 ok do armonica in do do re mi fa sol ok quindi suonerò un blues in sol se io ho un'armonica in tonalità di la suonerò in la si do re mi suonerò un blues in me ok ma se capita la domanda il vostro amico chitarrista vi dice facciamo un blues in me e tu giustamente all'inizio ti domandi ma che armonica devo prendere per suonare mio capito non devo prendere quella in me ma quale devo prendere allora occhio non confonderti perché o torna indietro di 5 oppure trucchetto scorciatoia se il tuo amico chitarrista dice blues in me tu in questo caso per arrivare alla tonalità dell'armonica sali fino alla quarta nota partendo dal mi mi fa sol la prenderai la tua bella armonica in la e suonerai in tonalità di mi se tu prendi l'armonica in la e ti domandi in che tonalità suonerò sali di 5 la si do re mi vedi che la cosa funziona questo magari se non vi è chiaro ve lo spiegherò un po più nel dettaglio in un altro video comunque c'è una relazione tra la tonalità dell'armonica e la tonalità della seconda posizione se parto dall'armonica salgo di 5 se parto dalla dalla tonalità del blues salirò di 4 bene terza posizione allora terza posizione quindi suoniamo in un'altra tonalità ok e questa volta diciamo andiamo in un territorio minore minore quindi tutto ciò che malinconico e triste ok quindi se sentite un brano che vi piace su cui vi piace suonare l'armonica sentite che è un accompagnamento minore minore tutto molto malinconico allora molto probabilmente la tonalità del brano è minore comunque tutte le volte che avete la necessità di suonare su un accompagnamento minore la terza posizione vi rende insomma tutto più più facile perché già di suo suona minore quindi con un'armonica in do qual è la relazione adesso ve la faccio ancora più semplice la relazione è semplice suoneremo una nota sopra esattamente un tono sopra quindi armonica in do suoneremo in re do re ok re minore e cosa e dove vado a cercare le mie note per non sbagliarvi all'inizio cercatele dal quarto foro aspirato l'ottavo foro aspirato occhio a saltare il settimo foro aspirato perché molte volte questa cosa questa nota non sarà corretta quindi io parto dal quarto foro aspirato e già subito sentite insomma le note che suonano minori una melodia minore sono arrivato a sesto foro aspirato soffio nel 7 aspiro nell'otto ok salto il settimo foro aspirato perché la maggior parte delle volte quella nota sarebbe fuori luogo qui tutte note naturali terza posizione suonate direttamente in minore la relazione la scorcettoia è che partendo dalla tonalità dell'armonica suonerete una tonalità che si trova un tono sopra una nota sopra un tono preciso quindi se volete suonare un brano che vi piace che ne so un brano minore in tonalità di la minore e volete chiaramente utilizzare questa cosa della terza posizione che comodo efficace e come fate la minore devo trovare la tonalità dell'armonica scendo di un tono prendo l'armonica in sol ok prendo l'armonica in sol vado sempre dal quarto all'ottavo foro come vi ho spiegato e funziona e vi trovate con l'armonica giusta nella tonalità giusta ok queste sono proprio due dritte di base per indirizzarvi nella scelta l'armonica diatonica è un mondo particolare non funziona come la cromatica con la cromatica avete un solo strumento tendenzialmente studiando imparerete a suonare in tutte le tonalità avete tutte le note non vi manca niente avete tutti i tasti bianchi i tasti neri del pianoforte con la diatonica no ogni volta che cambiate armonica diatonica state scegliendo indicativamente una scala naturale maggiore una tonalità e quindi non suonerete in tutte le tonalità a meno che non diventiate bravi come our levy ma se volete suonare in modo tradizionale seguite queste linee guida vi interessa il folk imparare suonare il folk imparare suonare in prima posizione interessa blues impara suonare in seconda posizione ti interessano le melodie minori più magari un po più melodiche un po più malinconiche insomma impara suonare in terza posizione tutte le volte che ti troverai su un accompagnamento minore vai in terza posizione impara suonare in terza posizione questi sono riferimenti di base per approcciarsi allo studio dell'armonica diatonica quindi a seconda della tonalità e del genere musicale che con cui vi trova vi troverete a suonare dove dovrete imparare a scegliere la tonalità corretta dell'armonica ok a seconda folk prima posizione ma in che tonalità si bemolle un brano folk maggiore si bemolle ben armonica in diatonica in si bemolle vai nell'ottava centrale tutto funziona brano in re minore a prescindere dal genere armonica in do in terza posizione blues in la seconda posizione che armonica devo prendere salgo di 4 la si do re prendo la mia bella armonica in re imparo suonare blues in la chiaramente trovate qui sul canale youtube di easy arpe tantissimi riferimenti sulle posizioni le tonalità dell'armonica andate a curiosare se poi vi interessa studiare in modo approfondito dalla a alla z a questo strumento andate chiaramente a curiosare su easy arpe punto it bene questo era il video di oggi spero vi sia piaciuto se è così stato magari lasciate il vostro like se non sei già iscritto al canale youtube di easy arpe iscriviti ora clicca anche sulla campanellina per ricevere in tempo reale tutti gli aggiornamenti quando pubblicherò un nuovo video ti ricordo che puoi seguire easy arpe anche su altri social facebook instagram telegram e soprattutto se non l'hai già fatto ti invito a visitare easy arpe 2.0 la tua scuola di armonica blues online sul sito www.easyarpe.it dove trovi una vera e propria scuola di armonica blues online realizzata dal sottoscritto la prima in italia con tanti corsi da livello base con accesso gratuito a tutti gli altri livelli fino a quelli più avanzati un percorso didattico completo per apprendere tutti i segreti dell'armonica blues ricordate che imparare su una l'armonica è facile con easy arpe take it easy take it easy arpe ciao un saluto a tutti